Io sono bello dentro Ora stai fuori Vabbè, loro non lo sanno Sì, sono io Eh, lo so, c'è scritto sul Cidopoli Bella ragazzi e bentornati sul mio canale Visto che ho notato che vi è piaciuto molto Il precedente video riguardante Le figure di merda Ai citofoni, ai vari citofoni Oggi siamo qui di nuovo Grazie Pastarella per lanciarmi la roba da dietro Quindi io vi lascio al video immediatamente Lasciate troppi like se vi piace Altrimenti mandatemi altamente a Esatto Bella Grazie per avermi aperto E salve, siamo la polizia romana Sì Eh, lo so Non è credibile ma i miei fan non hanno creatività Quindi arrivederla, buona serata Trapassa o peri? Trapassa i peri Certo Perché mi sta uscendo sta frase stasera? Di sol Buonasera, mi scusi per il disturbo Le rubo, guardi, un attimo rapidissimo Volevo sapere Se il signor cane ha un cane Di chi è il cane? Il signor? O cane, ha un cane Di chi è il cane? Non conosco nessuno Eh, ho capito ma è una domanda Secondo lei Eh, io non conosco nessuno, le dico Buon salve, siamo qui con un quiz facilissimo La domanda è semplice E buonasera Eh, non ho niente da dire Doveva, però è uscito male Vabbè Chi è? Eh, buonasera Volevo chiederle se lei conosce un certo Mario Lorenzini Senti, e io mi sembra che la tua voce la riconosco Stai facendo uno scherzetto? Perché io c'ho la videocamera Ok? Scemo Io adesso vado dalla tua madre Saludamela Scemo 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 Scemo